Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Oggi parleremo nuovamente della registrazione di uomini e donne avvenuta proprio ieri, domenica 1 novembre. E dopo aver scoperto che la nostra Tina Cipollari è in quarantena forzata per essere stata a fianco a una persona positiva, dove ho appena pubblicato un video, quindi ve lo metterò qui alla fine di questo video, parliamo di un grande ritorno. Ebbene, perché è arrivato in studio Riccardo Guarnieri, pronto per trovare un nuovo amore. E sì, Riccardo è pronto a ricominciare dopo la delusione avuta con l'ex dama e compagna Ida Platano. Riccardo infatti è tornato nella puntata di ieri di Uomini e Donne, registrata a Roma, che vedremo sicuramente nella prossima settimana. Infatti, dopo aver chiuso definitivamente la sua storia con Ida, è pronto per una nuova relazione. Se Riccardo ha scelto di riapparire davanti alle telecamere, Ida invece è rimasta proprio lontana. Tornerà presto anche lei per riavvicinarsi nuovamente come l'hanno scosso a Riccardo? Chi lo sa? Il fatto sta che lei pochi giorni fa su Instagram aveva annunciato la fine della sua storia d'amore anche su Uomini e Donne Magazine con Riccardo. Una storia che per lei è stata molto tormentata e che l'ha fatta soffrire molto. Adesso si dice molto serena e tranquilla con se stessa. La fine della loro relazione, diciamo, è stata sempre un mistero. E solo pochi giorni fa, come vi raccontavo, Ida l'ha ammessa a Uomini e Donne Magazine. Infatti ha detto che l'addio con Riccardo è arrivato a causa di numerosi litigi e alcune incomprensioni caratteriali. Ida ha negato però l'intrusione di una terza persona, quindi un tradimento. Ida ha tenuto a precisare a Uomini e Donne Magazine che ad oggi non ha nessun tipo di rapporto con Riccardo che tra l'altro non le ha mai risposto da alcuni messaggi che Ida le ha inviato. Infatti la donna si aspettava un confronto più maturo da parte sua, cosa che invece non c'è stato. E magari chi lo sa ragazzi ritornerà a Uomini e Donne proprio per averlo? Io ci scommetto e credo proprio di sì. Voi invece che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi un pollice su di supporto se il video vi è piaciuto e vi aspetto per tanti altri prossimi video.